Ancora un decesso nei reparti Covid dell'ospedale Sampio di Benevento, dove ha perso la vita un uomo di 68 anni di San Nazaro, ricoverato da giorni nel reparto di terapia intensiva. Nessuna dimissione e dunque aumenta anche il numero dei ricoveri con altri quattro casi che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere. Sono ora 39 i degenti nell'area Covid. Per quel che riguarda la campagna vaccinale, stoppa i vaccini per gli ultraottantenni, mentre da domani partiranno le vaccinazioni per il personale scolastico. Sedi della campagna sia il centro vaccinale di Via Minghetti che l'Istituto Tecnico Alberti di Piazza Risorgimento. In tre giorni dovrebbero essere somministrate mille dosi del vaccino di AstraZeneca con l'aiuto dei medici dell'ASL. Un momento storico atteso da tutti perché capace di infondere nuovamente speranza, spiega Gino Abbate. Medico e consigliera regionale in Commissione Sanità. La situazione per quanto riguarda il Covid sta precipitando soprattutto rispetto alle varianti. L'obiettivo principale crede che sia quello di vaccinare un po' tutti. Noi non dobbiamo rincorrere il virus ma lo dobbiamo contrastare. E allora l'unico modo per poterlo fare è avere una scuola in sicurezza inizialmente dagli insegnanti. Raccomandazioni rilanciate anche dal sindaco Clemente Mastella. Le notizie sulla diffusione del virus non sono buone, scrive il primo cittadino su Facebook. La sua mutazione è quella che spaventa e peraltro si insinua nei giovani e nei bambini. L'unico modo serio di vincere questa interminabile battaglia è il vaccino. Vacciniamoci tutti, nessuno sia reticente.